Musica Forse dieci anni dalla scomparsa di Doricei, la grande attrice fiorentina che duetava sempre con Peppino De Filippo. Il suo onore è stato scritto un libro e l'autore di questo libro è Franco Mariani che abbiamo intervistato. Ascoltiamo. Era doveroso a distanza di dieci anni ricordare la famosa attrice del teatro italiano e toscano Doricei, per ben 25 anni compagna di Peppino De Filippo, la sua attrice prediletta. Io ho scritto questo libro proprio per far rimanere una memoria storica dell'impegno di Dori Casini, questo era il suo nome vero, in arte Doricei, nata nel 1915 e morta nel 1988. Una carriera stravigliante, è stata regista, ha diretto oltre 100 commedie, ne ha scritte 24, ha vestito sei teatri a Firenze. Doricei, il destino di un'attrice è il libro che io ho scritto proprio per ricordare questa grande attrice. Grazie. 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 Grazie.